Bentornati, fratelli di tuberanza, in un nuovo episodio su Luigi's Mansion 3, dove proseguiremo la nostra avventura. Ragazzuoli, nello scorso episodio abbiamo ottenuto un nuovo pulsante che andiamo ad inserire immediatamente nel nostro ascensore, nostro tra virgolette. Comunque sia, prima di iniziare, pollicione all'insù per supportare questi video. Grazie. Vai! Pulsante numero 14! Alla grande! Quindi rimangono solo due piani, in teoria. No, me ne vado, raga, me ne vado. Ancora! Sì! Vai, Jack, mangiatela! Ma no, che gli fai le feste, Jack! Te la devi mangiare, Jack! Ok, ragazzuoli si rinizia con questa tiriterra del gatto che si ingoia al bottone! E noi che dobbiamo inseguire il gatto per... per ripigliarcelo. Ah, ecco le impronte. Sì, è passato di... No, mannaggia a te! Jack? Maledettissimo! Maledettissimo gatto! Beccate sto missile! Guarda com'è salito in alto! Vieni qua! Vieni, vieni, vieni! Vieni! Ok! Olè! Oh, guarda qua che bella sottiletta che ho fatto! Vieni! Ma non scappare, per favore! Affrontami! Affrontami! Va bene, Jack te lo sta seguendo, eh! Maledettissimo! Campanello! Ok! Perfetto! Ma non mi fai proprio proprio per niente, fratello, te lo dico! Oh, questo gatto! Oh, sto girato, scemo, mi vedi? Vieni, vieni! Vi è qua! Ha pezzo di schifo! Vi è qua! Ha schifoso! Ha maledetto! Ok! È andato al piano di sotto! A posto, ho capito! Perché questo ha suonato? Aha! Fermati! Sì, oh, ti sei arrabbiato! Mamma, ci stiamo cagando sotto! Girati! Aspetta un attimo! Dai, su! Su, gattino, dai! Dai, dai, dai! Prendi coraggio! Affrontami! Prendi coraggio, gattaccio! Vai qua! Vai di là! Vai di giù! Vai di su! E vai! E un'altra code è andata! Mo' tocca l'amichetto tuo! Sta scappando di nuovo! Eccoti! Dov'è andato? Andato di qua! Dai, che la tua bella corsa sta per finire, zio! Andato sul palco! E' dentro, e' dentro! Eccoti! Vai, raga! L'ultimo giro, eh! Perde l'ultima coda e se ne va! Porca miseria! Eccoti qua! Preso! Gatto maledetto di cacca di... Beh, eh, eh, non mi voglio dire le parolacce! A posto! Ridammi il getto e il bottone! Oh! Lo prendi tu, Jack? Vabbè, lo vengo a prendere, non ti preoccupare! E se ne va, Jack? Va bene! E' comunque stato abbastanza utile, eh! Ci ha dato una mano a seguire il gattaccio! Piano 14, questa volta, ottenuto! Eccoci tornati all'ascensore! Speriamo che questa sia la volta buona che riusciamo ad inserire sto benedetto bottone e riusciamo ad avanzare! Ok, piano 14! Vai! Ok! Cioè, praticamente questa cosa qui mi fa capire che se il gatto volesse potrebbe prenderci tutti i bottoni e fregarci! Siamo arrivati quasi, raga! Ma cos'è, oh? Sala disco? Sentiteci la musica! Sì! Raga, così illuminato è bellissimo! Ah, questo era il banco, Matt! Proseguiamo! Oh, guarda le tag! Tanto rubiamo dalla cassa perché è giusto che sia così! Di qual negozio non ci fosse entrare da qui? Ma da qui sì! Forse! Rubiamo sempre dalla cassa, raga, perché è importante rubare dalla cassa! Cos'è qua? Una cassaforte! Apriti! Un quadro che si può spiccare! Ma che è uno scherzo! Mazza quanti ragni! Vabbè, proseguiamo! Saliamo! Gua, raga, è bellissimo! Sembra tipo tutto... Yo, yo! Guarda che è di lusso sto albergo, eh! Perché si è interrotta la musica? Il... Il... Il pulsante! Datemi il pulsante! Ma che figata! Posso... Posso... Posso prenderlo? Ma io ci provo, eh! Oh! Non ci credo, così facile! David Guetta! Vedete, raga, perché i gameplay con la facecam sono più belli? Perché possiamo... Possiamo ballare! Ma chi sono questi? I Ghost Dancer? Guardali come flexano! È il momento di smetterla, però! Oh, ma che basket, oh! Devo aspettare che si ferma, no? È il momento di finirla, boys! Sono arrivato qui per la... Per la battle! È il momento di farla finita, ragazzuoli! No, 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 no! Eh, mi sono perso, ma chi ce l'ha? Mi metto al centro e non sbaglio? Ah! Ecco come dovevo fare! Dovevo prendere quello che aveva il gettone! A posto, raga, fatta! Mission complete! Dove si è messo il bottone? Wow! Che movimento, tesoro! Se non fosse per quella parrucca orribile... Cioè, questo ha già mammenato! Come faccio? Come l'ha... Come l'ha uccito questa, raga? Non mi avrai! Oh, yes, bim! Stavo per dire una parolaccia! Vai! A destra! E vai! E qua! Signor DJ! Mettimi la music! Oh! No, raga, comunque... Sta cosa che fa bomb è strautile! Aia, mannaia! Oh! Dai, metti i dischi! Mettine altri dischi! La fresca! Ancora! Ancora! Ma che... Non ci credo, raga! Cioè, ho fatto una prima volta pazzesca e mo... Vi è qua! Maledetta parrucchina! E dammi un cuore! Dammi il cuore! Non chiedermi niente! Dimmi che aglio! Ma perché sono così scemo? Ma perché? Ecco il cuoricino! Olè! E qua! E dammelo, sto cuoricino! E dammelo! Dai! Non essere così! Malefica! Oh! Oh! Stammi lontano! Ho detto! Stammi lontano! No, non ci credo, eh! E leva di mosca! E' finita! E' finita San Siro! E' finita San Siro! Bene, fantastico così! Oh, a sto giro basta! Mo basta però! Mo' il gettone rimane mio! Il bottone! Ok! E' estremamente fastidioso comunque il rumore che fa quando siete in fin di vita! Oh yeah! Provie! Piano 15 signori! Ce l'abbiamo fatta! Allora, voglio salutarvi su questo palco ragazzuoli! Perché è estremamente luminoso e meraviglioso! Nel prossimo episodio andremo ad inserire l'ultimo bottone nel nostro ascensore! E non vedo l'ora di scoprire cosa succeda! Noi ci vediamo con i prossimi video sempre e solo qui su Tuberanza! Ciao! Ciao!